hello guys ciao ragazzi buonasera e ben ritrovati qui sul mio canale di youtube bene allora questa sera ci troviamo per vedere una delle funzioni una delle tante funzioni di winlive 12 e anche 11 e quindi questa è una funzione che trovate in versioni anche nelle versioni precedenti ma adesso parliamo di queste ultime due versioni che sono quelle con il quale io sto facendo questi video eccetera eccetera la funzione è alquanto semplice in apparenza perché viene presentata anche nelle presentazioni generali del winlive che sono le song list la gestione delle song list attraverso il database quindi questo è un video non tanto per chi utilizza winlive per fare il karaoke perché quello abbiamo visto già in un'altra occasione e se volete poi torneremo e l'approfondiremo per fare il karaoke si utilizza la ricerca quindi andiamo a utilizzare la timeline principale del programma che è quella che ci consente di gestire diciamo la lista di chi vuole cantare fare il karaoke in tempo reale ma adesso andiamo a vedere quindi eventualmente ecco apriamo il programma andiamo a vedere intanto lo lanciamo eccolo qua però ecco questa playlist mentre carica il programma vado a spiegarlo questa funzione che vediamo le song list attraverso il database sono indicate principalmente per chi fa proprio il mestiere del piano bar nel senso o le serate danzanti per chi lo utilizza per fare il suo lavoro di artista live che in questo caso avere una playlist già pronta e fatta bene bene organizzata eccetera eccetera ci consente e vi consente di fare la vostra serata senza dovervi continuamente preoccupare del computer o del tablet quello che utilizzate per dover andare a caricare la base e farla partire eccetera eccetera quindi è proprio un uno schema il preparare completamente quello che è tutto il programma della serata magari con delle song list che ne so di che possono andare dalle tre canzoni alle cinque alle dieci canzoni insomma quelle lo decidete voi e andiamo a vedere quindi con questa con questo piccolo tutorial come gestire queste song list attraverso il database ok allora innanzitutto vi voglio ricordare che io appunto faccio anche questi tutorial essendo ufficialmente un promoter in sostanza del win live quindi come testimonial vado a vado a fare queste questi piccoli tutorial e c'è il vantaggio che attraverso un mio codice che io vi consiglio di utilizzare perché attraverso questo mio codice insieme al programma potete avere tante cose in più anzi andiamo addirittura a vederle queste cose in più rimpiccioliamo un attimo andiamo a vedere apriamo eccola qua vedete con questo applicando il mio vedete qui gen blu questo è il mio codice che vedete qui dove indico con la freccettina quando acquistate il programma con questo mio codice se prendete il win live pro sin 12 l'ultima versione avrete due ore extra di assistenza gratuite e il banco suoni ice bank guardate che è un banco suoni con dei suoni veramente reali che costa andare a comprarlo se invece utilizzate il mio codice verrà vi verrà regalato insieme al programma insieme alle due ore extra di assistenza gratuita in remoto e credetemi è una cosa molto utile l'assistenza gratuita quindi con i win live 12 non non insinti il normale avrete l'assistenza gratuita eccetera eccetera vedete qua quelle che sono tutte le agevolazioni utilizzando il mio codice bene allora ragazzi detto questo andiamo ad aprire il programma e andiamo a vedere come gestire appunto fare la nostra song list gestendola dal database che ci consente di fare tutta una serie di modifiche dal trasporto alla sequenza è l'ordine con il quale andiamo a fare le canzoni e il tutto viene gestito in maniera corretta e voi non vi dovete preoccupare di nulla fate partire la song list e le canzoni verranno fatte in sequenza come programmate voi come ho detto poco fa allora per uno che lo utilizza facendo il karaoke abbiamo visto anche l'altra volta che si utilizza questo qui il campo di ricerca si inserisce la canzone il titolo lui lo va a cercare in tutta la vostra libreria eccetera eccetera andate ad aggiungerla qua e andate a fare il trasporto al momento che non viene poi memorizzato definitivamente dal computer ma è solo momentaneo e nella playlist che poi magari potrete anche andare a salvare questa vostra playlist con il nome del locale insomma quella è un'altra funzione noi invece chiudiamo questo e andiamo a creare la nostra song list tramite il database allora qui andiamo in funzione database vedete ecco qua il database è stato salvato per salvare una copia di sicurezza si va beh andiamo a salvare fai g7 sovrascrive eccetera 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 allora noi andiamo a prendere una song list vuota per esempio prendiamo questa song list 5 esatto poi dopo a questa 5 andremo a dargli anche un nome andiamo a prendere ecco qua io qua ho dei nuovi karaoke possiamo prendere in sequenza prendiamo a caso prendiamo a caso qualche canzone vediamo un attimino prendo questa incredibilmente giù andiamo a fare import lui mi dirà dove io qua gli dico song list 5 vedete qua import e lui me la importa qua ecco abbiamo la prima canzone andiamo a sceglierle un'altra facciamo import sempre qua sono dei 5 import yes andiamo a prenderne una terza run to you di brian adams vedete mi raccomando sempre sono dei 5 perché altrimenti ve lo va a mettere in un'altra sono lì importate ne abbiamo fatte tre ok ritiriamo ancora dentro una giusto per fare l'esempio poi ne tirate dentro tutte quelle che volete potete fare diverse song list per esempio volete fare cinque pezzi consecutivi se siete in una serata danzante una in fila l'altra poi dopo cinque pezzi una pausa se volete dire due parole al pubblico eccetera eccetera insomma dipende un attimino potete gestire come meglio credete voi la son list a questo punto noi abbiamo queste quattro canzoni e abbiamo tutta questa serie di annotazioni che possiamo andare a mettere e addirittura per esempio possiamo vedere se i varie cose karaoke eccetera eccetera traspose ecco andiamo a vedere il traspose abbiamo questa canzone incredibilmente giù dei pu diciamo è troppo alta in versione originale la vado a mettere a meno due per dire no quindi meno due e l'ho abbassata poi quella il mambo numero cinque number five mettiamo meno uno e le altre due a bra e adams questa qua anche questa qui traspose mettiamo meno due la portiamo a meno due e abbiamo queste quattro canzoni perfetto però come le abbiamo tirate dentro non è la giusta sequenza che vogliamo utilizzare allora come si può fare per poter andare a creare la giusta sequenza di questo pezzo di questa song list dobbiamo andare in fondo qua andiamo in fondo ci spostiamo con il cursore fino in fondo e andiamo qui dove c'è il campo che indica ecco qua custom dove c'è questo custom vedete ci sono questi numeri che sono i numeri dei delle canzoni che noi abbiamo selezionato hanno un loro ordine dentro nella libreria noi vogliamo creare una sequenza a questo punto vogliamo che la canzone di bra e adam sia la prima canzone che andiamo a fare allora questo punto andremo qui e andre metteremo uno poi incredibilmente giù dei pu è la seconda canzone andiamo qua mettiamo due poi abbiamo quell'altra canzone che quella di il mambo e il vento del sud mettiamo il mambo number five come terzo pezzo e vento come quarto pezzo ecco a questo punto io ho creato una sequenza prima bra e adams seconda incredibilmente giù terza abbiamo mambo number five e quarta abbiamo messo vento del sud di tiro mancino a questo punto torniamo qua abbiamo visto abbiamo messo i nostri traspose e andiamo a questo punto a fare qui vedete dove c'è il disco save lui c'è sempre la playlist che viene sempre ogni aggiornata diciamo al database salvate già esiste lo sovrescrivi esatto lo sovrescriviamo a questo punto noi abbiamo la la playlist salvata nella song list numero 5 e vorremmo chiamarla ballabile 1 diciamo che è la prima song list che vogliamo lanciare a questo punto usciamo dal database ritorniamo qui andiamo sulle andiamo qui in strumenti editor song list ecco vedete song list editor e si apre tutto questo vedete la song list 5 a questo punto noi possiamo andare dagli il nostro nome che è ballabile 1 possiamo fare un'altra cosa ballabile 1 noi possiamo dirgli se se fosse sono dei midi andiamo a togliere direttamente qui la voce del canto in questo caso no perché sono tutti mp3 o mp4 video però se andiamo a metterlo diciamo fosse un midi ci toglie la voce del canto mentre cliccando qua andremo a fare lo stop per ogni canzone per fare la seconda canzone dovremo ridare nuovamente il via ma noi vogliamo farle tutte in sequenza e quindi togliamo questo non andiamo a flagare questo quadratino quindi non diamo lo stop in questa maniera lui le farà tutto uguale un'altra cosa a questo punto noi abbiamo creato una sequenza d'ordine quindi dobbiamo andare qua perché vedete che in default mi mette appunto la parola default però noi dobbiamo eseguire i pezzi nell'ordine cronologico che abbiamo stabilito noi l'uno avete visto come abbiamo stabilito l'ordine della canzone qui andiamo su dove c'è default in prossimità di ballabile 1 e andremo a mettere ordine in questo caso noi possiamo dargli l'ordine che vogliamo del titolo della canzone e in ordine alfabetico dell'artista in questo caso noi abbiamo creato una sequenza numerica cioè vogliamo prima questa poi questa poi questa poi questa ecco che a questo punto andiamo a mettere ordine salva e lui l'ha salvata a questo punto se noi andiamo sulla nostra son list andiamo qua eccola qua ballabile 1 f5 clicchiamo vedete ci mette run to you incredibilmente giù lubega e viento del sud vedete ha creato esattamente la sequenza con il quale noi gli abbiamo dato l'ordine a questo punto se noi facciamo partire parte il run to you di bray adams la farà la farà a meno due perché noi gli abbiamo detto di farla a meno due quando arriverà in fondo la canzone che finirà partirà in automatico subito l'altra f5 rivediamo vedete incredibilmente giù dovrebbe partire in automatico ecco avete visto la canzone adesso la fermo perché altrimenti per problemi ci bloccano il video eccetera eccetera avete visto in questa maniera qua noi abbiamo nel database caricato le canzoni siamo andati a mettergli il traspose che volevamo quindi andiamo a rivederlo quindi database song list 5 vedete ballabile 1 abbiamo caricato le quattro canzoni gli abbiamo dato il traspose che volevamo gli abbiamo dato la sequenza che volevamo quindi salviamo si ritorna di qua si va strumenti edit song list edit andiamo a dargli il nome che vogliamo gli mettiamo lo stop per ogni canzone o no glielo mettiamo e andiamo qui e selezioniamo in questo caso ordine per poterla fare con le su con i numeri che noi abbiamo stabilito in questa maniera il pezzo praticamente tutta la song list verrà eseguita concatenata a voi vi basterà semplicemente andare a prendere in questo caso vedete qua fate partire il primo brano e automaticamente lui vi farà in sequenza tutti i brani che avete stabilito nella playlist creerete varie playlist a secondo di come volete organizzare la vostra serata di piano bar ok quindi spero che questo tutorial vi sia stato utile per questa funzione perché effettivamente per chi fa il mestiere di piano bar o fa ballare e quindi vuole organizzare bene la song list in maniera tale che ogni canzone è in sequenza una in fila l'altra ben organizzata ben trasportata tutto quanto lui non si deve preoccupare per quel tempo che durerà la sua song list può essere un quarto d'ora se sono tre canzoni o quattro può essere mezz'ora o un'ora se vuol fare una song list di 15 brani una volta che lui lancia che voi lanciate la song list automaticamente in sequenza vi viene tutto quanto e voi per il tempo che tutto viaggia non vi dovete assolutamente preoccupare più del computer o del tablet perché farà tutto in automatico ok va bene ragazzi dai spero di essere stato utile in questa in questa piccola demo in questo tutorial che è proprio l'abbiamo dedicato alle song list tramite database per chi utilizza win live per fare musica dal vivo può essere piano bar o che può essere delle serate danzanti dai vi do appuntamento accetto vostri consigli o vostri suggerimenti se avete qualche funzione che non riuscite a capire che per volentieri creerò un video per spiegarvi eventualmente queste funzioni che voi non riuscite a risolvere ripeto c'è la possibilità poi comprandolo col mio codice che avete visto all'inizio che eventualmente vi vado a caricare ancora con gen blu potrete oltre ad avere i banchi suoni dell'ice bank insomma tutte queste agevolazioni in più in regalo se acquistate il programma con il mio codice e le ore extra di assistenza gratuita credetemi sono molto utili perché se non riesco io con un video io a spiegarvi determinate funzioni basta che vi collegate in remoto entrano dentro nel vostro computer vi guidano vi fanno vedere esattamente tutto quello che avete bisogno di vedere ok ragazzi ma detto questo ragazzi a questo punto vi vi lascio a fare la vostra prova vedere se riuscite a creare questa son list ma avete visto è abbastanza semplice quindi non doveste fare fatica e vi do appuntamento alla prossima occasione quindi per quelli che sono le mie lezioni di pianoforte e miei allievi di pianoforte sapete i vari appuntamenti che abbiamo mentre per quanto riguarda appunto questo win live per il quale io mi sono prestato a fare da testimonial è un ottimo programma eccellente posso dire e vedrete che troverete degli ottimi risultati utilizzando questo software molto specifico e altamente altamente professionale ma buon ragazzi detto questo io vi saluto con il mio solito e consueto bye bye